A Nereto si è riusciti ad aumentare in questi anni la raccolta differenziata, parliamo degli ultimi due anni, ed attuare anche un risparmio sui costi? Sì, siamo passati nell'anno 2014 a un 64% di raccolta differenziata, nel 2015 abbiamo raggiunto l'obiettivo del 71%, attualmente il primo trimestre del 2016 porta al Comune di Nereto una raccolta differenziata del 75% con punte fino al 77%. Questo è un po' un caso a livello sicuramente del territorio ma anche a livello provinciale e regionale? Sì, grazie ai cittadini che hanno seguito le politiche di cambiamento dell'amministrazione, quindi si è iniziato con una modifica del servizio, successivamente si investe di continuo in attività di educazione ambientale dalle scuole fino al compostaggio che è ancora in atto, quindi per aumentare anche il numero di persone che hanno in reto ricevono una riduzione attraverso il compostaggio che pare, lo ricordo, al 15% della Tari, con tutte queste politiche l'amministrazione ha avuto dei benefici dal punto di vista economico che quest'anno sono quantificati all'incirca del 70 mila euro, chiedo scusa. Questi 70 mila euro dovranno essere reinvestiti sui cittadini, quindi ci sarà una riduzione all'incirca del 7% quanto il quantitativo di rifiuti indifferenziato prodotto e si faranno anche degli investimenti in educazione ambientale, seguiranno anche campagne per il compostaggio e anche attività per la cura e il decoro urbano. Nel reto diventerà comune e capofila anche per una sorta di nuova tariffazione? Sì, diciamo questo è un punto fondamentale per l'amministrazione, il passaggio successivo con l'aumento della percentuale della raccolta differenziale sarà necessariamente la tariffazione puntuale. Noi vogliamo che i cittadini virtuosi, i cittadini che effettivamente differenziano, abbiano un beneficio superiore economicamente parlando rispetto ai cittadini che ancora hanno delle difficoltà di differenziaire oppure ritengono che questa pratica non sia da adottare. Quindi noi ci promuoveremo questa pratica in Val Vibrata, abbiamo già dei contatti con la Poliservice che è la nostra società che gestisce i rifiuti, speriamo che l'Unione Comune e gli altri sindaci o assessori agli ambienti seguano questa idea di nereto e possiamo tutta la vallata, perché l'obiettivo sì è di nereto, ma comunque per i benefici complessivi è necessario che ci sia ad opere tutta la vallata per la tariffazione puntuale. Grazie a tutti.